Sono state già dieci le intossicazioni da funghi rilevate negli ultimi giorni dalla ASL, nulla di grave, ma alcuni cittadini si sono anche dovuti ricoverare in ospedale. E allora dalla ASL arriva nuovamente, era già avvenuto ad inizio novembre, l'appello a rivolgersi agli sportelli dell'ispettorato micologico. Negli ultimi due giorni, raccontano Daniela Donati e Carlo Gori, tecnici micologi dell'ispettorato, ci sono state varie intossicazioni in tutto il territorio. Alcune persone hanno necessitato di un ricovero in ospedale, quattro in Casentino, due in Valdarno e quattro ad Arezzo. Il nostro è un vero appello, rivolgetevi, dicono sempre all'ispettorato micologico, un servizio gratuito di controllo e al quale si può accedere senza appuntamento. Nei nostri centri è sempre presente un micologo che verifica se il fungo è commestibile o velenoso e anche se è troppo vecchio e quindi comunque da evitare per il consumo. Grazie. Grazie.